Benissimo, cacchio! Ma c'è bisogno? Che bel piacere! Vedi? Invitami, li è Zord! C'ha fatto! Non è vero? Beh, sì, però rinvitami! Agri! Buona mattina, persona nella ciata! Vogliamo un altro matching? Perché sono loro? Scusa! Scusa! No! È uno stronzo! Ha visto il gatto che ci fotte il tempo e non vince neanche sto stronzo? Ma no, veramente! Mamma mia! Si ruba tutto! Naturalmente voi adesso vincerete! Mamma mia! No, la prima no! La prima è sempre Vergine! No, beh! Allora, io non voglio dire niente! Però! Però! Non dirò altro! Non fuggiremo io ai notti! Guarda Serena che io ero sgridata e oggi si è svegliata prima! Si è svegliata presto! All'intanto ringraziamo il signor Siro98, il signor AlquantoGiallo, come sarà un Simpson! Losteroth e Caneginseng per quattro mesi! Grazie mille! Grazie mille! Ha rinnovato fuori! E poi immagino che hanno sistemato la cosa di Twitch, no? Però è spretto! Metti quel cazzo di ready! Eh! E perchè play! E perchè play! Lo sapevo! Però ogni volta! Lo so! No! Gli so bello! Come mai? Potrebbe anche essere! Ma anche tu! Amore! Ma tutti tristi! Può essere! Ma che se non mi ricordo quello! No! Non essete tristi! Tra l'altro! Non lo siete tristi! Tra l'altro! Lo diciamo! Forse! Forse! Ci saranno delle guest star! Domenica è in Patreon! Forse! Bum bum bum! Se si liberano! Così! Esplosioni! Se si liberano! Così! Così! Oggi siamo frizzantini! Forse ci sono delle guest star! 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 Perché normalmente sei ruolare il tuo PC, no? Non sai che personaggio sei! Perché normalmente ruoli benissimo! Cazzo di paladino! Vero? Vero? Esprit! Ti ricordi sempre tutto! Vero? Di fare sempre tutto! Magari la sera! Vero? Eh? Quando sei di guardia solo! E hai dei dubbi! No? Ti ricordi sempre di fare le cose! Deve stare zitto però! Tu devi stare scemo invece! Scusate! 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 Io e Esprit abbiamo fatto una piccola chiacchierata! Io gli ho detto ma perché non hai fatto questo? Quattro minuti! E lui mi fa! Merda! Non ci avevo pensato! Eh? Ma dai! Lo avevo notato! Lo avevo notato! Lo avevo notato! Lo avevo notato! Mi sta! Lo avevo notato! Se non stai muto! Guarda! Azzitto moro! Ti apro il culo! E la mattina presto e urla presto! Usa che sarà male! Già di Agnelli! Già di Agnelli! Grazie! Grazie mille per aver condiviso la salva! Dove? 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 Ci cerco io stavolta! Vuoi scegliere tu? Vai! Ci cerco io! Andiamo! Ci buttiamo! Andiamo! Qua! Sempre la insomma! Beh! C'erano tante case! Eh! La però! Forse arriverà un po' di gente! Allora! Aspetta! Andiamo qui! Allora! Scossa! Ma sì! Te lo diciamo! Va bene! Va bene! 3! 2! 1! Vai lì! Va bene! Ehm! E dicendo... Buongiorno! Termo pidocchioso! Ma è strunca! Volendo, Trevor! E' un piacere passare la giornata libera insieme a voi! Grazie per l'iniezione di stupidità giornaliera! E' sprecullo! E' sprecullo giustamente! E' grazie Vallei Manna! E' grazie Vallei Manna! E' grazie Vallei Manna! Finalmente non spreco la sugo per carino! Ok! Grazie Vallei Manna! Prego! Se 2.000€ ti fa un falò a moro a casa! Direttamente! Probabile! Siete tutti stronzetti! Tanto lui è un... Falegname! Ti fa il falò! Fa il camionetto di legno però! Mi sa che ci conviene scendere qui! Sì! Oh no! Ma in realtà però si arriva! Si arriva! Si arriva! Ma non vedo bene dov'è! Ehm... Sì! Va bene Fempa! Non vedo nessun altro sopra di voi! No! Perché non sono scesi! Non sono scesi tutti avanti! Perché è troppo lontano effettivamente dalla riga dell'aereo! Dei tutti scendono un picchiato! Che va sempre bene andare così... Ma sì! Poi siamo anche più in mezzo all'assegno! Questo piccolo bug che ti metti così lontani che ho fatto è carino! Non è un bug penso eh! Beh... Sì! Non è che se guardi in su vai meglio! Beh... Se ti metti con una certa angolazione potresti effettivamente planare! A K M! Ehm... Qua c'è un Vector! Ciao a tutti! Beh è meglio che niente dai! Fa schifo il Vector! Mai provato! No non fa schifo! Però... 9mm non mi servono vabbè fa niente! M16! Ah! Dove c'è? Una piccolissima! Merino! Sono felice adesso! Non ho capito Cini! Ehm... Il vestito... Allora io... Ho il vestito che lo fico! Qua è pieno di... Di caschi ragazzi se volete! Ciao ZAR! Dopo arrivo! Eh... Aspetta che vi sto da casa qua! C'è macchina! C'ho... E' un fucile a pompa ma non c'è... C'è un zaino magari eh! Ci sono... Ah no! Ci sono anche le munizioni! Guarda qua che bello! Daino! Ti ha detto! Ho la doppietta! Che... Che fa schifo! Che fa quanto schifo! Però ce l'ho! T'è in realtà sciotta! Sì! Coglio! Devi coprire però! Eh! E' quello il problemino della doppietta! Come siamo con la safe? Siamo dentro! Siamo dentro! Ah! Ho visto nella mappetta... Allora... Non dovremmo neanche essere... In... Un milino per due! No! Non dovremmo neanche arrivare i genitori! Lo lascio per voi dopo! Minino per due! Dalla me che ho... L'ho preso! E c'è anche un... L'hai preso? Sì! Dopo lo lascio! Abbiamo anche un'auto qua! Vabbè! L'ho detto prima! L'ho detto prima! Ma stai zingendo! Nessuno ti ascolta! Nessuno ti ascolta! Ok! Ehm... Mi serve un'arma decente! Perché il metto mi fa un po' po' schifo! In verità non è un'auto! Non è di... Ah! Ma c'è un'auto qua che ha detto che c'è i not... Che not l'ha detto ma Esprit non l'ha mai detto! In verità... Che però non è neanche guidabile! Esatto! In verità l'ha detto... Esprit dice cagate! Forse! Forse! Ok! Col forse... Prendetelo! Forse sono una nonnetta di 70 anni! Ehm... Forse! Ma in verità non lo so! Ma in verità non lo so! C'è la loop! C'è la loop! C'è la loop sotto che è troppo schifo! Però lo prendimi! No l'ho preso io! Ti culo! Guarda che in realtà l'OMP è ottimo! Dammi il mirino! Perché c'ho lo scatto! Ma scusa! Prendi il mirino sull'OMP? Perché c'ho anche questo! Ah ok! Così! Uno a distanza e uno da vicino! Eh ma sì! A caso non funzionava così! Vogliamo andare qua ragazzi! Ok! Che c'è il... Il pieno di case! Che è la prova! Qui dove hai detto! Qualcosa! Lì sotto! Ho molto pure questo... Questo... Cosa! 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 Sì che sono un nonnetto di 70 anni! E togli il punto su Apple! Che fastidio di Elzar! Esatto! Elzar toglilo! Da fastidio! Eh! Ti voglio bene Elzar quando mi ascolti! No a differenza di Esprit! Teoricamente chi è che sa giocare meglio a premiera noi? Io e Notto! Perché sono quelli che facciamo i video su... Eh! Tra i due! E siamo anche quelli che abbiamo avuto un gioco per primo! Eh! Tra i due hai detto uno! Tra noi... Eh! Dipende! Io sono più... Io sono più... ehm... Stealth! Sì a notte più Stealth! Vado un po' più... Io preferisco... Non fare casino! Muoverlo di calma! Eccetera! E lui ogni tanto spara un po' troppo per quanto mi riguarda! Infatti ogni tanto moriamo perché lui spara! Eh! Però ogni tanto ne facciamo di kill! Ogni tanto facciamo un bel po' di kill! Infatti! Qui sono aperte alcune eh! Sono aperte alcune eh! Anche lutato eh! Eh! E fin qua sono arrivati! Può essere! Di occhio! Perciò in fondo in caso! Police vest! Prendilo! Prendilo! Sì qua è tutto lutato! Tutto tutto tutto! Muori giù in fondo allora! Facciamo una cosa in otto! Eh! Facciamo il posto di blocco sul ponte! Se vuoi! No! No! Dai! Non ho tante munizioni però! Volentieri! Guardiamo un po' qua e poi andiamo lì! Mentre giocano loro io vi tengo d'occhio in chat! In chat! Sì facciamolo! Perché ci scarpano giochi da tanti per la mattina! Mh! Avete qualcosa? Moro ti chiedono cosa hai in mente oggi nel pranzo! Stavo pensando! Mi sa che in realtà c'ho già pronto il sugo nel frigo! Però te colpi... Prodotto cos'è? Prodotto cos'è? Il 7 e 65 mi servono eh! No anche bene! Il 7 e 65! Il 7 e 65! Io non ho armi! Credo sia un sugo con i fagioli! Quel poco che ho visto ieri! Qua non ho avuto ancora! O dopo i fagioli! Eh sì! Stasera che faremo di bello! Mh! Rainbow! Ci sono un po' di scelte! O Rainbow! O... No! Moverdine no! Perché tanto è già uscito ieri video! Quindi aspettiamo un attimo a farlo! Ci potrebbe essere uno! Però... Probabilmente faremo Rainbow! Sempre bene! No ma faremo Rainbow! Probabilmente! E poi c'è da un po' che non lo facciamo! Cade e andi qua! E' spavento! Cade e andi qua! No! C'è la porta! Uno! Magari domani! SKS! Eh! C'è uno shotgun! Ok! SKS è il... Eh no! Il... Cino! E' il cecchino! ... Cosa ferra! Ma grazie mille per aver usato Twitch Prime da noi! Grazie per la Shuba! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Però potrebbe essermi comodo un... ...un mireno! eh! Black wake! Prego di Black wake! E' sempre quello! Ed è un confusionario! Ma... Stavo dicendo, no? Stavo dicendo! Avevo bisogno di un mireno! Eh! Ti do il mio, se vuoi! No! Ne ho trovato uno! 2. Cos'è che hai tu? L'energy drink no ce l'ho. Se volete aggiungere la pompa è qua eh ragazzi. No no. Se andiamo sul ponte aggiungere la pompa è qua eh ragazzi. No no. Se andiamo sul ponte aggiungere la pompa è qua. Io sono pronto in un frigo perché lo preparo a me mi sono colpi a me. Io non posso andare sul ponte. No ho veloce Lorenzo. Sto ma credo che non lo faremo però un po'. Stiamo aspettando come diceva Espo il The Sea of Thieves. Quello lì sarà figo. Stiamo qua a essere carino. Andiamo là. Andiamo là del ponte. Proprio probabilmente ci sarà destra di quando uscirà. Stato i colpi tico sono questi. 7.62. Eh servono anche a me. Poi mi aspetta un po' da stasera. Io ne ho in totale cosa sono? 80. Eh io ne ho 30. Eh ok però io ho anche il cecchino. Ho due armi che mi prendono quelle. Beh ma il cecchino 80 colpi basta. No in verità sono 60. Scusami eh. 60 totale sono. 60. 30 e 30. Doveva essere quelli che poi insieme alla. Eh no allora c'è qualcosa che non va. Cosa state poppeando? Mi si sono raddoppiate le munizioni. C'è il bug come i Pokémon che se li passavi in un certo punto. Sì perché ho sul cecchino 10.50 e sulla KM 30 e 50. Perchè probabilmente finchè non li usi. Eh sì. Probabilmente finchè non li usi. Non lo so. No Antonio Worms lo faccio solo sul cannello. C'è un MP eh se lo volete. Qua sono lì. No Worms si appunto sul cannello. Già lo facciamo abbastanza lì. Che merda qua. Casco livello 2 ottimo. A parte che non ci sarà stato nessuno. Vogliamo andare sul ponte e sperare che passi qualcuno. Non penso che passerà nessuno lo sai. Eeeh. Infatti siamo al pilo della zona comunque qua eh. Infatti. Non potete andare sul ponte sai. Abbiamo un veicolo in caso. Qui di solito c'erano dei veicoli. Sì forse là dentro c'è qualcosa. Aspetto qui c'è sempre una motoretta. Non è neanche già preso. Aspetta voi andate sul ponte. Sì c'è un veicolo là in fondo. Vado a prenderlo. Vai a prenderlo. Due veicoli. Volete la moto o la macchina? No la moto. È più veloce. Un po' poi è un punto di merda. No ma semplicemente nessuno verrà da queste parti per com'è messa la safe. No. Cioè se devi venire arriverai dall'altro ponte non vai... Non sono da risa. Sì ma se devi uscire dall'isola esci dall'altro ponte. Eh Femba hai ragione. Hai ragione. Ci stavo dimenticando sempre di quello di Sonic di farò la mattina. È vero. Porca puttana. Tra l'altro adesso anche Aspet ha avuto un'altra idea che poi probabilmente la faremo. Quindi qualcosa ci sta venendo in mente. Ah sì Sonic alla mattina ci sono io. Ok. Sonic alla mattina ci sta. Metto qua dietro al campo. Ok. Beh in verità noi dobbiamo giusto aspettare un po' e... Vediamo che... Non c'è niente nulla qua. Non c'è nulla qua. C'è quasi già con Alika che sono sempre vuote. Sempre vuote. Non nominate quel gioco Malenk. Fusa. Fusa. Cosa cosa? Cosa? Mamma mia le for the 2. Giochiamoci. Eh Fusa. L'avevo già pensato. Dipende in verità. Allora è un bel gioco. Questo qua. Solo che se non hai un pc abbastanza potente ha ancora problemi di ottimizzazione. Quindi 30 euro... Eh. 30 euro... Eh... Dipende. Perché... Per esempio anche Karim da qualche problema. A me da qualche problema ogni tanto. Quindi... Io ti direi di aspettare. Aspetta un po'. Vedi... Vedi se lo mettono a posto. In caso anche sì. Sì. Noi comunque ci stiamo... Ci stiamo giocando abbastanza. Sì. Io mi diverto sempre. Io anche fuori live e fuori video ci gioco... Quasi 50 ore io su sto gioco. Hai notte? Ehi. Hai già visto in cima il faro? No. Cosa c'è? Chi c'è? No no no. Hai già controllato? Ma qui credo che non ci sia passato proprio nessuno. No ma non c'è nessuno qua. No perché vuole andare per un po' di cose ci sono... No perché altro... Eh... Ora ragazzi... Dobbiamo spostarci. Sì di poco. Dobbiamo tornare dove... Eh però è proprio in questo momento che dovrebbe passare la gente sul punto. Ma no perché la gente passerà piuttosto sulla destra penso. Non... Non quadrante. Eh oddio vengono tagliati fuori tutti e due i punti adesso quindi... Infatti chi vuole essere il miliardario la mattina per accendere il cielo lo sai che sarebbe un'ottima idea? Te lo farei. Guardate settimana Tekken 7 sì quello ci sarà. Non so... Come ma ci sarà. Poi water. Perché vado in copertura. E poi sbuco. E vado in copertura. E poi sbuco. E poi sbuco. Vogliamo andarcene allora. E sbuco. E in copertura. E sbuco. Un becco quello due. Una maschera. E sbuco. Basta. Non lo so e vogliamo andarcene. Perché io non... Dopo una settimana esce Tekken 7 porca vacca. Sicuramente tu e Marco farei... Io e Marco ce lo prendiamo quello. Qua dove vorrei andare io? Dove... Dove è indicato col dito? Verso nord. Verso nord. Al bordo della città va bene. Al bordo. Eh andiamolo. Andiamo la moto. Andiamo. Sì ok. Ma non stavo incontrando nessuno. Che palle gatto. Trova sempre un sacco di gente. Lo rimane su. Ma quando li incontriamo moriamo su. Dai. Ma ci sperano mentre c'erano in moto. Tranquillo dietro. Ci sciottano e via. Sì. Così che funziona. Ma in... Da 3 la moto. Sì giustamente. Non hanno ancora messo. Io palpo il laser. Ma se questa moto... Quasi che passi da curvetta e ci ribaltiamo. Esatto. E perdiamo metà vita. Esattamente così. Però va super veloce. E non fa neanche così tanto casino. Anche perché il peso in questo momento... Un po'... Sì che guido io. Sempre guido io. Così video io. Guarda. Ah questo non può cadere. Questo si è fatto in due. Praticamente. Ghezzar. Ghezzar. Qui ha fatto da solo. Cioè non è possibile. Qui si è impiantato da sola. Ghezzar. La mia vita. Qui si è impiantato da sola dai. Ora guido io Ghezzar. Ma sei impiantato da sola. Ora. Ora. Hai fatto un salto. Aspetta però. Qua mi prende una benda. Guarda che figlio di merda. Prendo anche io una benda. Ho rischiato di uccidere tutti. Qui si è impiantato da sola. Scusa eh. Sì. Andiamo. Ah che cavolo. Io non ho niente. Non ho solo degli zilinchi. Porca vacca. Guarda te. Vogliamo controllare quelle case? Comunque. Entrare su una moto così. Eh. Ebbè ovvio. Ma non può neanche saltare un... Però abbiamo tutti i caschi almeno. Non siamo di Napoli. Esatto. Capito? Mi sembrava di essere ovunque però. Questo è il marco di verso napoletano quindi. Vai. Prena. 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 Buono. Buono. Ok. Così. Siamo qua. Di violenza. Colpi servono a me. A te i miei colpi. E' tutto vuoto lì. E' in sprit. Tutto vuoto? Tutto vuoto. Tutto vuoto. Qui c'erano un mb. Tristezza. No ma servono i miei colpi. Mi vincevano le mie armi. Vabbè. Noi i miei colpi no? Tutto vuoto. Coppi sono. Nove millimetri. Quanto polentone. Mi sono offeso. Mi sono offeso. Mi sono offeso. Mi sono offeso. Non potete offendervi. Per cose. Vere. Perché. E' vero. E' vero. Non è una questione. E' vero. Ti dissociamo da ogni frase. Detta da quest'uomo barbuto. Ma addirittura. Mi sono offeso. Vedi. C'è gente che dice. Che trea Napoli e da Pivelli. E' dot. E' dot. E' spot. Chi è? Io. Aspetta io di merda. Quei te l'ho ridotto voi. Veloce. Sali. Ehm. Vai un po' a destra. Andiamo lì. Ah non posso sparare io. Perfetto. E' no che non sparare. Cosa vuoi spararmi? In culo? Si. Appoggi il fucile sotto spalle. E' sparato. Qua' è aperto però. Si. Ma poi è chiuso. Eh no. Quello di là sono aperto. Vabbè lo rovo dentro. Proviamo. Effettivamente queste porte qua. sono chiuse. E' sembra esserci roba. E' un soldo per terra. E? Nessun mano avessi dato un po' l'isvest. Ragazzi qua da me è un po' l'isvest. Ce l'ho già. Ho. Duecentocinquanta colpi dell'UMP. Non li sparerò mai tutti. Mai. Ma questo ci chiamo Nicolai. I denti d'oro. In parla di Napoli. Ma è mica i denti d'oro. C'è un M. I not. Eh. C'è un M16. C'è un M16. I miei colpi. I miei colpi delle 7 punto. C'è un M16. Volentieri. L'M16 è l'arma più forte. Lascio qua. Ma qui siamo fuori eh ragazzi. Si lo so. Ah merda sta arrivando. Veloci ragazzi veloci veloci. Torniamo torniamo torniamo. Su 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 su. Guarda che poi fanno guidare la notte e poi ci andiamo nel gasco. Brucia brucia brucerà brucerà veloci veloci veloci. Guarda che c'è pure la moto cappottata. Nooo non questa. Qua. Drive. Dov'è Esprit? Vai prenderlo tu. Dov'è esprit? Dov'è esprit? Veloce. 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 Salta su. Salta su. Salta su. Via 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 via. Disparo al gas. Proviamo. Ma che spari al gas. Eeeh. Eeeh. Merda. Ma guarda che bravo che sono. Dai la self è qua dai. Dai la self è qua. Però è duro. Adesso. No questo salta. Eeeh. Guarda che bravo. Dai la testa. Ma che la testa. Che la testa. Aspetta aspettiamo l'ultimo aggiornamento. Aspetta un attimo. Fai fermati qua un attimo. Fai fermati qua un attimo. Che devo fare una cosa io. Eeeh. Dove? Che è successo? Che è successo? Dammi i colpi Esprit. Eeeh. Si aspetta. Dammi i colpi. Dammi i colpi. Si è. Cagato. Ok grazie. Oh che belli. Grazie. Adesso. Prendo le dotte. Lo metto qua. Avete delle bandie? Voglio quasi percorri un pochino. Prendo le donne ha detto. Cosa? Ho detto. Ho detto. Prendo le donne. Vai lì. Ma tu mi sedi alla testa. Andiamo giù quindi? Ok. Quanto. Posso fare in mezzo al bombardamento? Ho fatto in mezzo proprio. No. Vai. Se arrivi lì finisce. Ah è finito niente. Che bestezza. Dovevo fare la cosa di passare in mezzo al bombardamento... ...dipendente. Sto andando piano qua perché ho paura a capire. Non abbiamo ancora visto anima viva eh comunque. Nessuno. Ma la prima persona che vedremo ci massacra. Non è un problema. Come al solito la prima eh. Virgil. Ma si la prima non vale. Ok. Ma questo non scemo. Paura. E basta con le battute sui napoletani che... Noi anche se siete napoletani vi vogliamo bene comunque. Non importa se avete questa malattia. Abbiamo pure uno in TS. Oh lo stai giusto? Scusa. Ah non è da qua che devo andare? Devi segui la sera da qua. Sono le più belle. Lo sai che non hai una brutta idea vero Liezar? Io vado più velocemente possibile. Più velocemente possibile. Però almeno su una strada siamo bene. Non ci sbattiamo. Vedi? Vedi che bella è la strada di notte. Vedi vedi. Non devo essere una brutta idea passare per di qua Liezar. Bella liscia. Un'orribile idea. Non mi piace come idea Liezar. Ma no vedi vi avevano già passato tutto. Piano piano. Ah! Ma hanno preso in piedo! Ma hanno preso in piedo! Che tiro! Mi sono fatto malissimo. C'è gente là davanti! A sinistra! Scendi che spariamo! Scendi che spariamo! Ma che scendi che... Lo sparo io! Lo sparo io! A fatturo! Purtroppo ti metti dietro la roccia! Ah! Sono a terra! Scusa! Scusa! Sono a terra! Aiuto! 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 Esprit! 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 Mi sparo al tuo party! Ma aiutami! Eh sono morto! Eh però... Scusa! Quando uno dice scendere per sparare non si scende davanti all'altro! Perfetto! Scendi dietro la nostra! Scendi dietro la nostra! Io non mi sarei fermato! Vedi? Scusa! Non è vero! Non è vero! Andavamo troppo veloci! La prossima volta faccio! Come cazzo dico io! No è colpa te no! No! La prossima volta faccio! Come cazzo dico io! E il karma! Mi sono preso tre colpi in faccia io comunque! In modo! Fai culo! Il nemico come si chiamava? Napoli per acaso? Sì sì! Napoli ti ha ucciso! E sono più sterto! E beh io sarei scappato ma istantaneamente! Io l'ho detto! Codardo! Mesi e mesi prima che l'idea era brutta! Non vedo ancora il play! Mesi e mesi prima! L'ho detto che era una brutta idea! Ma doveva scendere! Dovevamo metterci dietro la nostra! Non davanti! Così si è proprio! Che sta davanti a loro! Due davanti e una a sinistra! E' un casino! Non potrei neanche nasconderti! Non dovevo salvarti! Vedi Napoli e poi muori! Appunto! dai 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 dai! Però quanti siamo arrivati? I quindicesimi! I quindicesimi! Una cacata su 30! Beh! Meh! Dai li hazzaro! Andiamo a picchiare adesso! Se Paynor fosse napoletano, sì, cioè, potrebbe essere stato. Cosa sto sentendo, Snake Snake Snake? Ma vedi che? Allora? Ne vado. Prima hai notato gli Ezra Esprit a vincere una Battle Royale o Mark a uscire di prigione? Non vuoi vincere, penso. Penso noi a vincere. Sì. Perché Mark in quel gioco non ce la fa. Non riesce a capire che in una prigione alcune cose deve farle per forza e se li dimentica e quindi non riuscirà mai. Perché hai spiegato a Mark come fare, però, niente. Guardate come volo in aria. Pelor è il San Gennaro dei tempi andati. E' ormai è andata così questa live, che ci vuoi fare? 360? Anche di più, eh? Mamma mia, che bravo che sono. Bravo, è noto. Mamma mia, è scritta differenza tua. Allora? Stiamo partendo? Ok. Dai, in butto qua, in butto. Dai, scelgo io? Scelgo io? Ti ho paura, vai. Dove siamo? Non sta comparendo. Ah, ecco. Ok. Qua. Siete pronti? Siete pronti? 3, 2, 1. Eh. Via! Vai. Sul bordo, sul bordo. E' scesa tipo mezzo aereo. Ma stai zitto, non verranno da noi. Perché andranno tutti dall'altra parte, vanno tutti verso nord. Infatti che lì in fondo non si verrà mai. Ma sì che ci arrivi, stai zitto, eh, se non sai, stai zitto. Ma lì ci sono le paludi. Ah no, proprio là in fondo, in fondo, vincano là, no. Vabbè, ma scopo, dobbiamo scendere qui, c'è gente, vediamo. Ma di nuovo. C'è la piena di gente in questa zona. Aspetta, io scendo in queste case qua. Ok, ho aperto il paracadute, vediamo un po'. No, non c'è anima viva. Io scendo là dove ci sono le case. Non c'è nessuno, perfetto. Io scendo in queste case qui, allora. Io non so dove scendere. Eh, è pieno di case qua. Qua c'è un'auto. Buono. Non ci viene a prendere. Dai, va bene, vabbè, 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 vabbè. Vai un po' avanti, vai, un pochino avanti, un pochino. Ecco. Sto dove, sta cadendo qua. Allora. Me... Merda! C'è gente? No, non mi aspettavo una discesa così. Doppio medico che ti ho già trovato. Sto trovando solo cure. Meglio. Metti di medico che ti vuoi come l'arma. Backpack di guerra da due. Stiamo nella zona con la fine. Io spero di trovare la roba dei centi qua. Un po'. No, non serve mai nella si difesa, non serve mai. Ma non è detto. Non è detto, non è detto. Troppo, troppo. Ma sì, vabbè, però. C'è una casa lì ed è vuota la padella. A te. Prendi la padella. Allora, la padella ti salvagà. Siamo veramente lontani. Vabbè, ma intanto abbiamo l'auto. Sì, l'avevo fatto. Il che significa che abbiamo anche relativamente più tempo per prendere le cose. Perché sono tutte le cose. Ma possiamo aspettare anche che fanno il gatto. Quelli che sono... Se vi dura la macchina. Perché sennò... Ma stai zitto, Amoro. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Un attimo che si ribalta. Io ve lo dico. È la Dacia. Io ho la patente. E sono bravo a guidare. Io sono. Hai mai guidato una Dacia in... Nella tua vita? Durante la guerra? No. A parte che non credo solo. È una Dacia quella. È una Lada. Andiamo a una Dacia. No, no, è una... Ah, dici come... Come modello? No, no. La Lada... Porca vacca in occhio. Quelle russe che fanno sempre gli incidenti nei... Tra l'altro il Polis Vest è il level 3. Yeah. Il mo livello 2. Vedi, vedi. E zero armi. Vedi, vedi. Io ho un fucile a pompa. Io ho una padella. Io ho un fucile a pompa. Zero armi. Meglio, meglio zero armi. Perché così voi siete più tranquilli. Non giornata Fetti Castoro. Altrimenti giocate tutti alla Rambo. Ho una balestra. Bene. Benissimo. Super Stealth. Dai, dai. Prendila. Proviamola. Non l'abbiamo mai provata. Non so. Prendila veramente. Sì. Non l'abbiamo mai provata. Un medikit. Dark Souls 2. Domani. Senza... No, dice... In quanto tempo... Cioè, quanto dura? Durerà... Se lo conosci già... Sono una trentina di ore. Sennò... Ah, per l'ora, sì. Per quattro. Si è tutto, metti 45-50. Eh, sei coros. Sì. Ovviamente è il più lungo volto. Ho un per quattro, comunque. O che serve. Buono. Ma veramente neanche un'arma? Cosa succede? Non ho sciotti ogni trovato. Niente, proprio niente. Una pistola e basta. Ah, ecco qua. Su un caso è come quello. No, va. Grandi, eh. Mi dai mirino? Aspetta. Sì, va bene. Ho l'M16. Hai preso la balestra? Sì, ne metto. Un po' di merda. Non c'è il che... Non neanche voglio dipendere. La ponte lascio là. Ah, fatti, vedi. Un M16. Ah, beh. Allora. Vengilo tu, allora. Ah, no, ma al... Te ho... Va bene, no. Usalo tu come cecchino, tanto. No, non sono buono. Allora. Vi spavano. Vi voglio vedere se era là sotto. No, non è là sotto. Ok, io ho 30 colpi per un fucile. Eh, un fucile, naturalmente. Ho tre medici, Kitty. Ho visto, Peppe Milano, il nuovo Goon. Vieni qua. Vengono tipo verso di voi. Te. Ok. Io ho fatto questo salto in avanti dal vecchio Goon. Bello. Che palle. Ho fatto il giro della casa. Ok. Ho fatto shotgun. No, te ne ne vedo due. Io. Un lump. Un lump 9. Che c'è da qui, vedete? No, tengo la balestra. Ah, penkiller. Medikit. Ah, ma c'è lo shotgun, poi. Non ho ancora visto quanto... Quanto in là dobbiamo andare, ok. Ai, ai, ai. Veloci, no, ragazzi. Veloci. Perché io non vado verso nord per andare là. Esprit, dammi il mirino intanto. Aspetta, metto qui in mezzo che si vede bene almeno. Passaggio? Ti avrete chiamato un taxi? Grazie. Ok, allora. Andiamo a... Poi? Non ce la faremo mai. Ma... Stai zitto, eh, Sprit. Sono io che guido. Punto. Dove stai andando poi a sud? Sì. Sto esattamente andando a sud. Ma sei venuto a un'altra? No, conosco la mappa, Sprit. Eh, ma così ci metti di più. Vero, ma forse non troviamo gente che ci spara sulla strada. Oddio, quasi quasi. No. Eh, ma è ancora più lunga dopo. Dobbiamo correre, dobbiamo correre. Ma che dobbiamo correre? Abbiamo 40 secondi prima dell'arrivo del coso. E ora che arriva poi. Esatto, ora che arriva ci mette 70 anni. Ok, quindi. Di qua. Questa è la prossima cosa. Ok. Vai, Dacia. Vai ai tuoi incredibili 80 km orari. Oddio! No, no, no. Poi dite a me, eh. Io ho toccato... Ha girato a caso qui. Non c'era bisogno. Ho toccato... No, a parte che non c'era bisogno, perché qua... Vogliamo prendere la moto, che è un po' più... No, dai. No, vogliamo scoprire la moto. Non ho dovuto mai sbagliare. No, il fatto è che non devo girare se sto andando agli 80 km o 3 all'ora. È quello il problema. Guardate. Tocchio drift qua, guarda. Mamma mia, tocchio drift davvero. Ok. Più o meno è dritto, così. Guarda la moto! Posso guardare la mappa? Ok, perfetto. Sì, qua è pieno di veicoli. Qua è pieno di veicoli. Sì, via sta, vai. Sì, via sta. Sì, seguo la strada fino al ponte, poi lì, decido. Qua è pieno di gente. Ma che è? No, perché l'aereo non è passato da qua. Non è passato di qua l'aereo. Aspetta, non è... Ma adesso ci sia... Pocchichi! E no, perché adesso con la cosa così sono tutti che stanno andando verso nord. Guarda quante moto ci sono qua. Esatto, stanno tutti andando verso nord. È la terza moto, potrebbe fare la gara. Anche lì davanti c'è un'altra. Potrebbe fare la gara di nuovo. Ma i veicoli in questo gioco ce n'è tanti. Troppi forse. La macchina lì. Amore non ha gioco. Bella rossa. Eh no, 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 il gioco. Per quello che non gioco. Dopo un po' conviene cambiare perché stai finendo la ventrina. Mamma mia, tu c'è la benzina per davvero? Sì, c'è la benzina. Ci sono attualità anche di ventrina. E no, perché... Di solito lo studio, ma se passi così tanto il turbo o la finita l'altra l'altro l'ho finito. Uno studio dottor Robb. Taccia occhio là. Eh, è passato anche dal cielo. Voi avete lo spinner, sì. Mamma mia se ce l'ho come spinno io, guarda. Ok, aspetta però. Con il penne io lo faccio. Sto pensando. Perché lo sapevo che mi spavico, Dio lo sai? Oddio, non mi piace niente di questo. Dovremmo arrivare tipo... Ok, no, va bene, va bene. La città è una merda. Eh, infatti. Sto cercando un modo per evitare la città. Eh, devi andare in su prima e poi in questo. No, no, E-Sprit. Su era ancora peggio. Te lo assicuro. Perché sopra c'è un intero magazzino che è pieno di solito di armi in cui arriva una caterva di gente. Tutte le persone che si sono lanciate con noi sono andate a nord. Tutte. Che di speciere. Io non conosco più lo stress. Infatti se li sono veramente tanto tranquillo che boh... Devevo nemmai tranquillo, moro. Non funziona niente. Che cazzo vuoi? Vada, puto. A parte che tu, E-Sprit, devi stare zittissimo No, 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 no. Non puoi dire che muovo tranquillo. E-Sprit, tu te lo devi infilar nel culo lo spinner, va bene? Ecco, puto, vedi. Così ti tranquillizzi un po'. Ok, allora. Siamo arrivati qua. Ehi, camion! E ora direi che è un buon momento per fare questo. Eh, ma di solito a Tonio ci sono i posti dove... Un cretino. Dove si gioca, dove ruolano... Di solito i posti dove fanno anche i tornei di magic, robe così. Sì, di solito c'è. Dove dentro trovi solo persone... E' quel posto lungo. ...grasse e brufolose praticamente. Ma dai! E' un canale, quel posto lungo che sembra l'aeroporto. E' perché si deve essere lo stereotipo del nerd dentro, sennò il cazzo di posto... Ma vuoi fare qua? Io scenderei e andrei a piedi. Perché noi invece moro entri, tutti palestrati, tutti al posto. Che ci pensi? Tutti vestiti alla moda, tutti... Sì, sì. Oddio! Andiamo qua, dai. Sì, sì. Andiamo. Io mi sono accacchato. Andiamo. 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 Nicola è pilota, vero? Nicola è pilota, vero? Grazie mille. Grazie mille Antonio. Grazie mille Antonio. Ci hai fatto che... Madonna mia, io ho saltato. Voi non l'avete visto perché ero nella mappa, ma ho saltato. Vogliamo provare ad andare alle rovine, eh? Questo mi è pessimo io. Allora andiamo nelle case piuttosto, no ragazzi? Venite di qua. Venite di qua, venite qui. Ma tu stai ascoltando Espo? Ma infatti... Ci sono in fondo, lo vedete? A nord. Nord. No. La mia posizione è a nord. La tua posizione è sempre a nord, penso. Visto, sei visto. Dov'è? Dietro a nord. Aia, mi sparo! Aia, me l'ho colpito. Da dove? Da dove? Ma... Ma non vedo. Addio tutti. No, c'è qualcosa che non va qua. Ma no ragazzi, avranno avuto il cecchino. Cioè... No, sono alle case, occhio. Esprit è morto. No, sono qua sotto. Sono scherzissimo io. Non vado... Non vengo la... Devi venire tu qua. Devi venire tu qua. Eh, se vengo su mi sparano. Eh, se io vengo la mi sparano. Eh, è uguale. Io non posso correre. No, fai il giro largo. No, faccio così. Non muoio Dietro. Andiamo dall'altra parte. Metta che mi devo curare. Eh, tira su... Vieni qua. Vieni qua. Scendi, scendi, scendi. Però l'ho colpito tre volte l'ho colpito. Sì, scendi. Bravissimo. Però non è morto. Wow! Salute. Eh... Era una del caso io, ma... Ok, dobbiamo spostarci. Eh, perché c'era uno in mezzo alla pianura. Ho detto, dai, spariamo a quello che... Eh, un'idea del cazzo. Non li vedevo. Tu non devi sparare a caso. Perché... Non è una sola persona. Sono sempre almeno in 3-4. Ho trovato un po' in testa, porca vacca. Eh. Venite di qua, ragazzo. Ehm... Sì, andiamo. No, non sto tranquillo. Perché poi mi uccidete, perché fate gli stronzi. Stanno sparando tantissimo. Sì, non hanno iperfruttura. Più. Un po' più lere, pochino di tristezza. L'hanno fatto malissimo, l'hanno fatto, porca vacca. Sì. Dobbiamo anche tipo andarcene. Aspetta, c'è ancora la Dacia. È ancora utilizzabile. Eh, ma dov'è? Eh, dovrebbe essere qua dietro. È in fondo, mi sa. No, dovrebbe essere qua dietro. Ah, ecco la dietro. Andiamo in macchina, andiamo in macchina. Eh, vado... Aspetta, la prendo io, dai. Vado a prenderlo io, tutta la vita. Vado a prenderlo io, tutta la vita. Vado a prenderlo io. Vado a prenderlo io, tutta la vita. Pizzicherà. Ma... Adesso non farà male il gas. Vabbè, tra l'altro, sono due passi nel gas. Vediamo solo di evitare di farne troppi. Aia, aia, aia. Ma dai! Non laggare! Ok. È entrato, è uscito, è entrato, è uscito. Vabbè, non ne hai perso nulla. No, non ho perso praticamente niente. Fermi? Si fermi, però. Sì! Tanto dovevo comunque venire in qua, non serviva che... Ci stanno sparando, ragazzi, veloci. Vai, 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 vai. Chi è? Zig Moon! Vieni noi! Grazie mille, ti dedico quest'ambulanza intanto. Tieni. Grazie mille. Gentili soldi. Non capisco... Corri, corri, corri! Sì, qui c'è un asso... un asso d'alto... Un anno prima, su. Di mortalità. Ah, eccoli l'asso, l'ho visto. Sono dal fuoco, eh, struzzi. Eh, no, stavo vomitando quello giù. Ora non ci facciano più. Eh, andiamo da SQ a questo punto, nella strada. Eh, sì, no, andiamo... Merda! Coglione! Tutto a posto, tutto a posto, guarda, ma io dico merda solo perché voglio spaventarvi. Io cambierai macchina. Sì, anch'io. Era dietro di noi. Qua. Questa è la mia bella. No, quella. No, quella non puoi guidarli. Non posso guidarla. Ma c'è la dose di più di spam adesso. Merda quanto lenta. Scusate, eh. Facciamo prima. Facciamo prima. Ma non è guidabile neanche questa, mi sta? Non è guidabile. No, sì, 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 sì. Non è ancora il momento. È guidabile, è guidabile. Dai, rossa... Rossa scattante. Guarda quanto è scattante questa. Mamma mia. Vedi, anche questa ha poca benzina già a priori. Vabbè, ma... Beh, oddio, ne ha metà. Eh, l'altra... Dove devo andare, lizar? Ah, c'è la quarta. Anzi, non lo chiedo a te, non lo chiedo a te. No, vai... Segui la strada. Ok, sì. Poi vai subito in mezzo al fiume. E poi devi andare su, devi superare il ponte. No, ok, ok. Ehm... Una bombarda. Qua. Ce l'ho. No, se magari ti muovi per mezzo al nulla. Ma sì... Devi bovere, ci sono sempre me per primo. Ma sì, ma sì, è sprettanto anche se ti perdiamo. Guarda che siamo tutti stasicstati, siamo proprio dietro noi due strumenti. Sì, sì, è proprio tassi. A parte che se quello lì è rosso... Vabbè, oh, è rosso per la... per la Russia. Ma è ruggine. È rosso russo. È rosso russo. È russo qui. Avremo bisogno anche di un po' di... Oro. Di munizioni. Grazie, è spremio. Muniz. Si stanno sparando, sì. Ma c'è un po' che trovo sponso. Ma fanculo. Ma fanculo. Ma fanculo. Ma fanculo. Eh sì, uno dall'altra che c'è. Sì, era uno dall'altra che... Noi passiamo in pezzo. Noi passiamo in pezzo. Noi passiamo in pezzo. Noi passiamo in pezzo. Ah, Giazza! Da tutti i posti. Per andare fai il salto sopra le persone. La macchina. Scendiamo qua, Giazza. Ehm... 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 Efficiente. È che sei aperto. Ah no, non è. Sì, è aperto. E poi dicono a me questi qua, no? E ti dicono a me questi. Stai ziiitto. Eh... Sono stealth, no? Sono stealth. Sono stealth. Sì, sotto le persone in parte. Oh, un per quattro. C'è una giubba a livello due qua. Eh, quello lo prendo volentieri. Tanti ce l'ho a livello tre. Sono gli imbecini. Ok, andiamocene, Giazza. Non aveva la cintura, non aveva... Non aveva la cintura e cade, normale. Cioè, non ho capito. Sì. Ok, Giazza, io andrei in questa direzione qua. Verso nord brutale. No, non seguirei non via. In mezzo a nulla. Non seguirlo. Andiamo. Già ha fatto casino. Ma stai zitto. Io e Giazza ci intendiamo. Aspetta, Giazza. Eh. No, non si può. Oh, non si può. No, che sfiga. Peccato. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, c'è il cadavere di quello che non ho messo la cintura. Esatto. Tanto, Esprit, avevi qualcosa di utile? Sì, i medikit. Fanculo i medikit. Ho capito. Però se andavi giusto, sulla strada magari... Ma sì. Tu vuoi anche vivere. Ma sì. Tanto ci avrebbero sparato comunque. Se andavo di là almeno... No, perché ero sulla collina non ci vediamo. No, perché c'erano anche altri sul ponte, Esprit. Non ci vediamo la collina. Eh, safe tra poco. E mi hanno asciutato perché si è stato accanto in otto. Sì, ma Esprit... Tanto in qualsiasi caso ci avrebbero sparato gli altri. Quindi dobbiamo continuare a muoverci. Avevano un piotto in più di stanze. No, se andava dentro? No, ma dobbiamo continuare a muoverci verso Nord semplicemente perché quelli che hanno ucciso Esprit arriveranno. Oh... E non vogliamo vendicarlo, no? Chi se ne frega? Eh sì, i giapponazzi che sono pochi in pochi. Però... Io... Hai pochi quanti? Che colpi usi? Però questo qui è il momento. Oh... È il momento che vado a mettere sull'acqua ora. Torno su. Vedi? 7,62? Sì. Non le ho. Sì. 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 Capito, sono morto per una trastronzata. Andiamo in quelle case... No, ci sarò sicuramente. Sei morto per il bene del gruppo. Tu dove eri? Dietro me o dietro il passeggero? Dietro nessuno, dietro il passeggero era. E allora, vedi, vedi, il posto del passeggero è il più pericoloso. Ho capito. È il posto della morte, viene chiamato così. Poi mi hanno shottato. Vogliamo provare ad andare... Dove? Là. E là dove? In quella casa? Ehm... No. Io sarei su... Questi gabbiotti. Vado a un gabbiotto quello là allora. Non mi pare di vedere un movimento comunque all'interno della casa. Però a casa lì davanti andiamo in quella... Eccomi, con un plot twist incredibile. Non c'era l'acqua. No. Pfff. Perché ce l'ho messa io, quindi no, non c'era. Però... Non c'ho il sugo con i fagioli. E quindi... Ma... Melanzane e salsiccia. Wow. Buono. Buono sì. Incredibile. Esatto. Andiamo in quella casetta, Aliezzar. Vediamo. Aspetta che qua cosa c'è? Para para para. Sembra vuota. Entrambe le porte sono chiuse. Ma che sono chiuse non è un bel sì. Vado avanti io con il fucile... Però anch'io, c'è una pompa. È tutto chiuso. Anche alla porta del bagno. Sì, anche dal... Credo dal tal... Sì. Oh, c'è un bel... Dimmi che... No, è 5.56, vabbè. Le M16, vabbè, li prendo io. No, eh... Li cambio. Gente... Dove? Nord-Ovest. Dove molto hanno visto? È un po' tantissimo. Ok. Ok, a sinistra di notte anche. Quanta gente! Bene, farò la storia su Instagram. Una e nera. Come ho fatto a mangiare le melanzane dito io? Ma è ricca. Beh, no, troppa gente. Mi sorprendi. Bravo, è notte. Un'altra è centrato! Merda! Non ho mancato. Non ho mancato. Eh... Peccato. Io ne farei un'altra. Volentieri. Sì. Siamo partiti tardi. Siamo partiti tardi. Oh, però me l'ha tirata Mandy Mario! Te l'ha tirata? Che ho detto? 2-1 che io muoio. No! Ma l'hanno buttato giù. Eh, se lo beccava lì... L'aveva scesi tutto. Poi mi tirava su e... Favamo un sacco di roba, però. Eh sì. Io ci sono. Vai, ready. Esprit? Eh, un attimo. Non mi invita a me. Sono dentro ai carri. Un attimo. Abbi te. Ok, no, vabbè. È giusto per capire. Ciao, ciao a chi va. A stasera. PAM, 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 PAM. La parmigiana, se non ti piace, posso capirlo perché è pesantissimo, magari per quello. Però la melanzana di per sé... Cioè le melanzane grigliate... Mmm... Di melanzane grigliate. Di melanzane grigliate. In verità. Dipende. No, melanzane grigliate non dipende. Ah, beh. Nel senso, sono buonissime. Assolutamente. Però, in alcuni modi la melanzana non mi fa impazzire. non è tipo le patate che sono buone in qualsiasi modo le patate le patate anche se me li metti nei piedi divento un uomo con piedi con patate esatto poi arriva una donna patata con piedi match start in un minuto adesso mi va le patate mi hai rovinato tutto anche se a me mi piace le melanzane guarda te melanzane mangio anche crudo no che schifo ma cosa? allora posto così guarda te lascio a te e grigliate con l'aglio e l'olio a psycho 10 minuto e lo faccio non c'è una fissazione per i piedi ma in realtà non c'è una fissazione per i piedi e sono divertenti i piedi e poi uomo con piedi con patate è una citazione colta esatto uomini con piedi con patate è una canzone se non la conoscete andate per ascoltare ve la consiglio tantissimo 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 no esprit vuoi guidare tu adesso no vuoi guidare tu e vediamo cosa fai vediamo le scelte che fai che ci porteranno alla morte sicura che bello non siete felici che le nostre live ormai si sono hanno subito una trasformazione eh si che sono diventate live dove la gente scopre della musica bella dove ascolta della musica bella e vede giocare male e poi vede giocare male e poi si parla di cibo quindi si parla anche di nodi cosa mi faccio oggi a pranzo e si tirano fuori le meglio idee eh si io andrei qua ma non ci arriviamo non ci arriviamo ma si che ci arriviamo beh ora che arriva l'aereo però sono divertenti no come fai guarda dove si è andato l'aereo non ci arrivi e scendi più o meno all'altezza del top o la città e vai grazie franci tu sei quella esatto no 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 andiamo massimo massimo a stalber ooooooooo guarda dove si è andato l'aereo prima ci siamo buttati lì e siamo arrivati lì figo ogni tanto si parla no è a mezzo no filati filati ce lo faccio guarda non sono diventate in tv no no forse e allora dai facciamo facciamo qua e questi che non lo spaventano eh no forse qui queste case qua no vedi ci penso sopra l'aereo in fondo va bene dai ci siamo tre due ah ok perfetto così via ho sbagliato quanti fermi guarda gli afg no no fanculo gli afg no no fanculo gli afg lag lag no ok ok viazzar sei tu quello sopra di me vero? io posso? no c'è di voi due se ti dici eh speriamo ehm che sono io ti l'abbiamo fatto tre giorni fa potrei sapere il nome scusi l'agnello già and'è buono impannato no non siamo pochini oggi è che siamo già anche a mezzogiorno quindi la gente non si fa che va via speriamo in 650 eh prima che mangiare a un certo punto boh scendiamo a questa qua sotto e poi ci spostiamo vado giù un trito al benzinaio mio amico però sono affidanzato per la sua fissazione per i piedi eh mi spiace risolta eh piacere disarmo e la farà la spesa hai corroborato a casa io qua saranno due robi saranno non c'è neanche un veicolo? io vado i piedi perchè sono più forte non mi piacciono i piedi comunque i piedi con patate cosa allunghiamo? la 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 il mio pene intanto non si vedrebbe comunque ahah ahah faceva male questa eh faceva proprio male L'iazzaro ti ho fatto faceva male beh miglioro meglio così eh sì eh sì Che dispiacere, Manny Baria, ma è un po' un coglione, scusa. Ah, ti è piaciuta, Sir? Ti è piaciuta tanto, vero? Uomini compiti con patate, vero? Lo so, lo so, lo so. Eh, ma d'altronde è musica d'avanguardia italiana, non può piacere a tutti, un po', non c'è niente, non c'è. Io ho preso, io ho... Lì a Zara, qua c'è un polisvest. Arrivo, ho preso uno zaino. Aia, merda, non riesco a passare, no. Non abbiamo veicoli, che palla. Ma sì, infatti. Ma siamo nella safe, sì. Corvo, corvo. Siamo anche nella safe. Ho piacere, Trevor. Ancora. Melmo. Non c'è. Niente. No, qui ci sono la cercata, che vuole in quella mare. Vuote. Sì, andiamo lì, facciamo il giro della costa. Esprit, c'è un polisvest. Where? Di sopra? Sopra, fuori, sul bancone. Dopo raggiungetemi dove ho messo il punto giallo. Ti raggiungo. Ah, ma c'è una moto qua. Vedi? Voilà. Ve la lascio, io vado a piedi. Poi è sulla strada, quindi. Un fucile da cecchino. Quello figo? Quello della seconda guerra mondiale. Eh, quello figo. Eh sì. FF millo, se non trovi le due leve, non ti si alza. Eh no, qua c'è una piattaforma. Mi hai visto sul balcone. Mi hai visto sul balcone. Ah, ma hai visto sul balcone. Cosa ha? Hai battuto sul balcone? Ah, non l'ho visto quel balcone. Hai semplicemente il ripiano per battere il boss più piccolo. Ed essendo in tre è comodo. Sì, per noi, però se sei da solo ce la fai tranquillamente. Se sei da solo ce la fai tranquillamente. Non è così difficile quel boss. Anzi, se non tiri sulle leve si può anche far cadere quel boss. significato della canzone perché sì, ha un significato. È un classicissimo. Gli uomini vogliono la patata. Eh sì. Per qua. I grandi significati. Jezza, sei andata tu in quella casa vuota? Sì, c'è solo un revolver. Ed è vuota. Ok. Sto andando in questa casa io, ma a te. Jesper, ce la fai? Ok, sì sì. Perché la risposta è chiaramente no. Ma sì, ce l'ho fatta? Ok, allora. Vado a prendere la moto, prendo Esprit e arriviamo da Teglietta. Sì, qua c'è un buggy anche. In verità sai che non siamo messi male noi. No, come... Intendo come posizione. Ah no, siamo proprio in mezzo. Ho una pistola. Vieni su. Non ho vinto niente. Ah, una pistola. Sparo? Vai. Ma cosa spari tu? Allora devi andare. Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo sulla costa sempre. Sì. Continuiamo la verazione nord. A me sei un arm. Pip pip. C'è roba, laser. Sì, cacchio. Non c'ho... Pip pip. Beh, andate avanti voi. Tanto io ho qua il buggy. Prendi il buggy tu? Sì, sì, sì. Ok. Qua non c'è veramente niente. Sì, ci sono cose. Il buggy della mappa... Ah, il buggy, infatti c'è. No, a distanza vedo le macchine che hanno andato al cielo a volte. Sì, sì. Ma perché? Che c'è, laser? Non riuscivo a salire sul buggy. Guarda dove ti porto, eh, Sprit. Eh, bel posto in vacanza qua. In spiaggia, in vacanza, al caldo. Il spiaggia è un po' schifo in realtà, eh. Vabbè, ho capito. Adesso ho anche tiramenti. Già che ti porto. Ti fermi il punto però. Che è successo? Non posso mai scendere mentre portiamo. Ma non posso togliere il punto giallo. Il punto giallo è mio, mi sa. Io non ho messo niente, quindi... C'è un punto in mezzo al mare. No, è l'azzurro. È il mio, però non so perché l'altro. È sbosto. Non posso? Sei tu, Liezar? Sì, sì. Cosa sto vedendo, Liezar? Tutto bene? Sì, è arrivato. Eh, ho visto che sei arrivato. Ma prende, ti prende, guardate. Che cazzo. Te lo danilo due. Dove? Ma aspetta. Questa a casa. Ho fatto il clipino perché è stato figo. Hai armi, te? Ho un fucile a pompa e un fucile a cecchino. Quindi... Tu, Liezar? Non ho niente io. Per quattro scopo. Vieni qua, allora, hai pandito. M6, c'è il M6, c'è il M2M. Quali spesso è il livello 1, qua? Eh no. Ma dove sono io? C'è un... Qua, dietro. Quattro cosa. Vabbè. Quali spesso è il livello 2, qua? Adesso manca un armamento. Manca un fucile. Quali spesso è il livello 2. C'è lo già qui. Ah, livello 2. Arrivo, aspetta. Piano di sopra, camera sinistra. Guardi, a casa. Salto. Salti. Ciao, pender. Per otto. Prendo il per otto o il per quattro? Per otto, sì. Mi tengo il per otto. Perché col fucile a cecchino è comodo il per otto, però... Perché c'è il nome di sopra qua, porca manca? Dopo le scale. Dopo le scale, come si arriva da sopra? Eh? Da dentro. No. Coglione. Che cazzo. Ah, dai, in mezzo. Che cacchio. Mi comunque non avevo visto. Eh, vede i buchi, lui. Sono... Sto qua fuori, sto. Fatico in otto. Ma è vero. Di fare il cabaret... Io non ho cure, non ho mezzo, no. Non c'è niente, non c'è. Cazzo. Completamente vuoto. Oh, è possibile! Ah, c'è un medikit. Un bandage, non ho medikit. Lo faccio! Mamma mia. Quanto ambo sono. Vai! Non ce l'ho fatta! Eh, sprit! Ci ho fatto male, no. Non ho niente. Ah, gli azar. Vai, putta giù. Però questo me lo fanno. Però io non ho armi a distanza. Questo è qua. Questo è qua. Dovete un... O altro mito? Dovete a me. Volentieri. Ok. Andiamo a piedi. Beh, vado lì in fondo. Quanto per otto? Ok. Ma 50 euro è scompensa. Già, da? Un po' tanto. Un po' tanto. Stiamo fermi di un punto perché non muoiono gli altri. Allora, fatta. È una barca. Sì. Anche più di una. Liezar? Hmm? Liezar? Dimmi? Vogliamo fare la super mega tatticona per arrivare in posizione 10 e prenderci i 10 euro di giada? Quanta, io? 50, eh? Dai, barchette in mezzo al mare. Barcha? Esprit. Barcha, Liezar. Esprit. No, dovevo esprimare via. Ho 60 colpi. Non ho un garma. Ci mettiamo in mezzo al mare e sparo alla gente che ci spara. No, vabbè, Liezar è orribile così. Ecco, adesso posso arrivare con l'arma. Ok. Vabbè, vediamo. Ah, se li vince li smizza con noi. No, andiamo. Posso. Allora vai, fatta. Dai. Sprovive però di noi. Dai. Ma tipo, mi sembra qualcuno... Ah, qui. No, dai, brutto. È bruttissimo. A parte che, in verità, sarebbe fantastico perché c'è anche la roccia in mezzo al nulla. Quindi potremmo metterci... È fattibile andare sulle rocce, è vero, no? Sì, potremmo metterci qua dietro e sparare alla gente. Esatto. Andiamo, andiamo. Però è bruttissimo da fare. Però io prendo la barca perché è carina. Andiamo, andiamo. Cosa facciamo con la barca? Stasera si mangia. Esatto. Ah, ho un mirino io. Perfetto. Corro. Corro. Tra l'altro io sono nella barca, quindi posso sparare. Mi guida, guido io. Verà come... Come sono in versione... Ma dimmi dove vuoi andare. Capitano di cavalleria. Con il piede sul sedile. Dove vuoi andare poi, no? Dimelo. Non lo so, eh... Hai noto te ne do 100 se... Se spari in testa agli altri. Vado al punto. Mi adondano un pochino. Ah. Quanto zoom. Facciamo così. Vedi gente, lì, la cittadina ce l'ho proposta. Ah, non si vede niente da qua. Ah, è quella la roccia. Però non puoi salirci, mi sai notte. Mi sto, odio. No, no, non ho intenzione di salirci. Ma è fuori dalla safe, tra l'altro. È fuori dalla safe. Ma che cazzo? Ah, vedi? Ah, ok. Ah, va bene, dai. No, in verità sapete dove dovremmo andare, sul monte. Eh, così qui dove dovresti andare. Vogliamo andare. C'è una macchina lì davanti. Dai, vai verso l'altro. Andiamo sul ponte. Sul ponte. Lì? Sì, proprio dritto davanti a noi. E proviamo ad andare sul monte. A destra c'è più di gente. Destra, leggermente più a destra. No, non so, l'ho visto dove è. Vai dritto. Vai dritto. Accelera. Shift. Vai, vai, shift. Vai, ma non succede niente. Sai quante volte l'ho fatto? Ok. Ma come si scende poi? Si è fatto malissimo di Ezra? No, c'erano già così. Ok. Per il buggy? Sì. Iniziamo un milino. Rilancia 110 e se lo fai tu, Esper. Cosa? A cecchinare in testa? Eh, ma non alzo il tiro come cosa. No, sparare in testa a noi. Ah. Allora? Beh. Beh, beh, io ci farei. Ma. Vai, poi. Eh, perché sennò... Gli smed. Adesso, in otto, io... Dove vai? Davanti a Gli Ezra. Però io te l'ho detto, Esper. Quello è il posto della morte. Sì, ma prima dove è Gli Ezra. Eh, ma solo perché non c'era nessuno al passeggero. Adesso ci sei tu e ti spareranno e ti uccideranno, sicuro. A quel punto non è colpa mia. No, questo è il centro dell'azione. No, questo è veramente il posto del mondo. Quello si chiama davvero così. È una casetta, penso. Maffanculo le casette. Ando a vedere come stanno le mie aziende. Ah, mi sembra un milino, beh. Maffanculo, non le trovi nelle casette, il milino. Cioè, in verità, non sono le casette. Dai, io mi fido delle casette. Mica sono come te. Ma ancora in 54? Ma sono tantissimi. Ma vai su, se ne ha casin. Sparano? No. Ah no. No, non sparano, sono io che... Perché usa il turbo, è per quello che stanno le chiamate. Ah, che fatica. C'è una turma. Ah, ma qui c'ho le rovine. Sì. E vuoi scendere qua veramente? E vediamo se c'è una roba. Sarà pieno di gente. No, non sarà pieno di gente. Beh, ci starebbe anche, in realtà. È una zona anche comoda. Non hanno... Luttato. Quali svesti, livello 3? Che culo. C'è un beccolo qua. Mi sa che non hanno luttato. C'è un milino qua. Un 4x. 4x. Eh, ce l'ho già. Eh, no, dicevo Esprit. Mi servono colpi di 766. Ok, quanti ne hai? Qui c'è un mitra Esprit. Ah, ce l'ho già il mitra, l'ho preso prima. Ah, c'è lo Scarella qua. 760? Ahah. No, questo ha i 556. Ah, a me ce l'ho i 506, quindi prendo uno. Anche a me servono i 556. E prendi un altro te, allora. Ma com'è lo Scar? No, ho l'M... Ah, lo Scar? Insomma. Eh? Quali svesti, livello 2 qua? Ehm, ce l'ho già. Esprit? Sì, ce l'ho già anch'io. Ok. Sto più in casa. Qui c'è? Un M6. Uh, l'M16. Questo me lo prendo. Un altro drink. Ce l'ho già io. C'erai not? Sì. Con il fondo. Dove se c'è roba. Ok. E iniziamo a controllare la strada? Ehm, qui serve da controllare tutto. Eh, poi se ne vado in direzione. Sai perché di andare in cima alla torre, se si potesse? Non ci può. Qui ti potremmo si può, scusa. Se ne andai in cima alla torre... Zitti! Una moto. Ah, lì in fondo, l'ho vista. Chi è il sole? A nord-est. Ok. Sì, sono da successi o no? Sono davanti a noi. Li ho visti. Cacciate se... C'è gente anche vicino a me. Est. Sto vicino a noi, a Ieda. Sto arrivando? Sì, stanno andando. Colpito? No. Uno l'ho colpito. Ah, ok. Stanno andando verso di voi. Ma lì sono andato via. Sono vicino a te adesso, i notti. Sono nascosto. Sì, siamo vicini a te, noi. Ah, li vedo. Vedo la macchia. Lo vedo, lo vedo, lì. Andate, i notti. La porca vacca, l'ho mancato troppe volte. E faccio il giro, guarda. Faccio tutto il giro, vediamoci a becco dietro. L'ho colpito. Dovrei averlo colpito. Guardate, mi metti po' qua. Guardate, mi metti. Niente da me. Dalla terra. Buono. No, no, no. Aspettate, aspettate. Vabbè, l'ho ucciso. Ma fa un culo. Lascio... All'altro è all'interno, quindi, in teoria. Ah, lo vedo. È lì alla porta. Dai, come ho fatto a mancarlo. Dai, che cazzo. Aspetta, aspetta. Va bene, Eliezer, Eliezer, non fare, non fare, non fare. Sono bloccati là dentro. L'ho visto, eh. Occhio, è nell'angolino lì, eh. E riechi me. Ho fatto a mancarlo la tota, comunque mi devo capirlo io. Ok, Eliezer, che cazzo stai facendo? Lo sono riparato dal muro, tranquillo. Ok, l'ho voluto giù, eh. Ho visto. Ho voluto fuori scritto. C'è un altro? Non lo so. O è abile. Sì, perché se no sarebbe morto. Sì, altrimenti sarebbero morti. Non so dove l'altro. Dai. Volevo salire qua. Come, dove è l'altro? Questo è da te, Eliezer, eh. Ah, aspetta, Luizzo. Dov'è Eliezer? È sempre dentro qua le rovine. Ah, l'ho visto. Ah. Il Eliezer, occhio, sta arrivando verso di te, eh. Sono quasi morto. Ho buttato a terra. Sono entrambi là. Sta bene la pasta. Anche le melanzane stanno bene. Sono ancora vive. Zompettano nella padella. Ho buttato a terra. Non mozzicato a qualcuno. Ma c'è un altro allora. Ok, siamo altri. Sono morti, sono morti. L'ho ucciso. Ah, l'altro l'ho ucciso io, mi so. Ma che mi ha dato tre kill. Sono passato da uno a tre. Sì, sono morti tutti. Sono dentro io. Ok, venite qua a lootare. Vedi, sono medikit poi. Madonna, gli ho sparato in faccia di cattiveria, ragazzi. 9, no. 7, 66, perfetto. Perfetto. Non hanno medikit. I colpi sono a posto, a me se li avevo... Beh, oddio. Sai che questa però me la prendo. Veloce, però. Polis veste a livello 3, ottio. Andiamo passando bene di qualcosa. Niente. Ok. Un sacco di colpi in otto. Un sacco di colpi. Sono tanti, questo. Sennò anche io un bordello. Voi tagli azzaro. Di colpi di che? Tutti. 7, 62, 5, 6, 6. Sono a 200 colpi. E' due 40 adesso. Boh, io direi ritorniamo sempre così. Rimettiamoci nella posizione di prima. E se sentiamo qualcuno avvicinarsi... Prova è che io... Andiamo nelle rocce, sì, tra le rocce. Tra le rocce è una buona posizione, non ti vedono. Il mio problema è che non l'ho pure. 7, 62, sì, scusate, ragazzi. Cioè, ho solo le... Solo le bende, ma non basta. Se vuoi ho un first aid. No, adesso non basta questo. Per ora. A seconda dopo, se per caso mi sembra il volo. Ma dove sono io dietro? Guarda che andrà bene. Ma qua sono riparato. Meno da una parte sono riparato. Da arrivare full vita? Con l'NG team che arrivavo full vita, no? Dopo. Sì. Usa subito? Conviene? O meglio aspettare? Ah, è vero il casco. Grazie, ragazzi. Occhio, eh. No, vado a prenderne uno da loro. Non c'è ne mancano ancora 31? 31. Eh, sono ancora tanti. Sono tantini. Stare stringendo, eh. Sì, sei un po' scoperto qui di sotto. No, in realtà no. Scandalistica. Tu sei buon... Eh, c'è gente a nord. Eh, dove sei la donna? Ah, qui dove sono io, quindi? Almeno due persone. O non l'ho colpito tanto. Vengo verso il dovevo di voi. Ah, l'ho visto. Uh. Ahia, me l'ho colpito. Va dietro. Quella dietro. A destra. Ma è stata sparata quelli là. Ahia, eh madonna, santissima. Che fucile c'ha? Comunque lo sa che fa così male. Sono a terra io. Eh, non posso aiutarti. Vado dietro, vado. Porca calda, ma davvero quasi shuttato, eh. Non li vedo, Gietza. Eh, sono scorsi lì. Sono scorsi tra la torre. Dove ci sono andati prima, più o meno. A nord, esatto. Ok, vieni qua. Hai spretto? Vieni qua. Aspetta, sono sceso all'uomo. Non ci ha facciato il piede. Eh, no, da... Da dove? È là sopra. È davanti, davanti a noi. Davanti, proprio. Davanti, Gietza. Ah, visto. L'ho colpito. L'ho colpito, l'ho colpito. Allora, cazzo, è venuto fuori quello, po'. Hai buttato a terra? No, non penso. Mi curo, Gietza. Eh, ha fatto il giro, mi sa, il mannetto. Ah. Vai lì. Il mannetto. No, no, lanciando una marea di granate. E io non ho visuale su tutto. Lancia! Ok, ho buttato a terra. Ho buttato a terra. Ah, c'è un altro. Sì. Ho buttato a terra. Non ho fatto tutti i giro, c'è manca ancora uno, Gietza. Dai, sopra. E lì. Ucciso, 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 ucciso. No, c'era ancora un altro. Non stanno morendo. Sono morti anche gli altri. No, sono morti, mi ha dato due kill. A me no. Come scusa? Eh no, vedi che c'è un altro. Resto, destra. Mi sa. No, dietro di noi, mi sa. No, lì, all'albero, all'albero dietro. Di all'albero. Eh, l'avevo visto dopo. Non l'ho visto. Dove? All'albero a su destra. La roccia. Destra. 105. Quello? C'è un altro che ha fatto una roccia. Quello? Eh, guardatemi! Quello! Eh, io non sono morto. No, più a sinistra. Quello. Sì. Dovresti vederlo, lo vedi? No, non lo vedo. Vì, eccolo. C'è una roccia. Lì, lo vedi? No, qualcosa da mancare. Dai. Ho dovuto fare il giro, eh. Per morire. Gliazzar? Non posso, non posso. Tirarti su. Non mi davi né qua. Ok, perfetto, perfetto. Fermo. Dolce, dolce. No, ho paura. Va bene. No, no, dai, dai, dai. Ce lo facciamo, ce lo facciamo. Tranquillo, Gliazzar. Ce lo facciamo. Non è un altro. Ce lo facciamo. Ok. Perfetto. Io ora prendo un... Ma così ti ho voluto più in fila, eh. Va bene, fumo. Fanculo. Trebbe essere o ancora lì o a destra. Ho volto dietro. Ho volto a destra, vai, a destra. Eh, Gas. Gas in arrivo. Andiamo dentro, Gliazzar. Vai, vai, vai. Tu vai. È così tu lui a venire. Infatti, infatti, infatti. Lì, lì, lì. Lì, assista, assista, not. Quanta torre. Lo vedi? È not, not. Corri nella safe. Ottimo. Corri nella safe, è not. Sto facendo. Allora, ci andremo lì che era troppo scoperto. che potevano ucciderlo. Madonna. E mi devo curare anche. Ah, c'è di una scuola del loot, comunque. Ho poche bendi, ho poca... Ho poca cura. Hai un po' di cure? Ho bende, se vuoi, sì. Te lo devo prendere. Arrivano di tutti le casse. Dobbiamo spostarsi. Eh, devo prima curarmi, aspetta. Curati. Ho curato un cazzo. Eh, no, troppo, troppo. Ultimo? Lo giro in questa zona non va bene. Mi rientro un attimo. Ok, andiamo. Ok. Vedi niente? Andiamo giù. Macchina sinistra da noi ferma. Forse era la nostra. Eh, no, saranno quelli che erano venuti da nord. Ah. Sì, stanno salendo tra di loro. Stanno sparando là in fondo, sì. Andiamo di qua. Che casetta? C'è la casetta in centro, alla sinistra. Ah, ci sono sette persone dentro. È probabile. Uno sopra l'altro. Vengono basti in 14. 13. Di cui due siamo noi. Vai, dai, cazzo. Infatti, mi sembra che la linea cazzo è pezzata. Se mi dai due secondi, mi bevo l'energy drink. È che qui non abbiamo ripari, eh. Eh, lo so. Infatti, facciamo così. Andiamo qua. Guarda qua, guarda qua. Non è malissimo. Mi dai metà delle bende? Così in caso se... Ne ho due. Ah, vabbè. Le do tutte. No, vai, vai. No, no, tienilo. Ah, non l'ho buttato giù. Aspetta. Non l'hai buttato giù. Guarda che fa niente. Liatra, fa niente. Prendere, prendere, prendere. Sono follato tanto. Non credo che avremo tempo per curarci. Il problema... Lì a destra, vai un po' a destra. Lì? Un po' più in su. Di tolabili c'era qualcuno. Un po' più in su, più in su. No, più in su ancora. Era lì dal bordo. Lì così, non è passato. Stiamo dicendo... Mi siamo troppo dici, eh. Comunque abbiamo andato... Nove. Sta andando verso il centro, sta andando. Ok. Poi c'era Giada che aveva scommesso per la top 10, è fatta. Stiamo uccisi anche tanti, adesso. Stiamo andando a casa alcuni, eh. Stai restringendo? Sì. Otto. Sento passi. Sono io, forse. Dopo... Ah, sei scopertissimo, mi sa. Ah, c'è gente a nord. 345. Ok, dove ti dicevo io prima? Eh, sono in fondo. Sono a limitare del gas. Non li vedo. Anch'io li vedo più adesso. Proprio alberi. Ah, davvero. Uh, siamo ancora nella safe. Qua siamo nella safe, Liazzar. Ci arriveranno, ci pioveranno gente in testa, eh. Controlla un po' di anche a destra, di notte, perché secondo me fincherà. Liazzar, vieni qua. Vieni qua e guarda... Sopra. Io guardo sotto. Sono lì. Vedamente, mi sei notto a destra. E qui non è che vedo molto. No, però giusto, sai, per evitare che... Probabilmente sei notto. Esatto. Però un blocked. Per quanto è più a destra non c'è nessuno? No, no, prima i tipi lungo. Dai, ne mancano cinque, Liazzar. Eh, però sono pochi. Non sono pochi. Ma io ho cinque proiettili per il pompa e cento... 21 per il cecchino. Vuoi fare di cinque proiettili per il pompa? Pieni anche il pompa, eh. Eh, invece. È proprio il fondo di giro, diciamo, eh. Dai, c'ho l'ansia. Ma dobbiamo se c'ho l'ansia anch'io. Ok, cerchiamo di muoverci il meno possibile, Liazzar. Così non facciamo casino. Eccone uno. Dov'è? È sud-ovest 2.40. L'ho visto camminare dietro gli alberi, ma adesso non lo vedo più. Eh, questo è un trapolignetto, sa. Se non è va alla casa, eh. Ecco lui. Gatto. Gli ho sparato in testa, eh. È il sasso, è il sasso. Gli ho sparato in testa. E poi è mancato un po' di giro. Sto stringendo. Stanno alla calza, sicuro. E se vanno nella casa... Dobbiamo muoverci. Dobbiamo spostarci? Forca la cacca, quella torre lì è ancora dentro. L'ho detto io. Aspetterai ancora, abbiamo ancora tempo comunque. Non mi dai così, no, te non mi dai così. Aspetta che ne esca in loro. Aspettiamo fino all'ultimo, Liazzar. Eh, ovvio. Abbiamo drink, Roy. Ah, adesso. Non cazzo. Ah, indietro a casa. Hai dei drink da smezzare, qualcosa? Non ho nulla. Ho due bende. Che sono quelle... Ah, ecco, ecco. Mi hanno dato l'antidea. Ma forca puttana. Hai sparato tu, Liazzar? Sì. Hai dirlo a Albro. Sì. Sto stringendo nella safe zone. 30 secondi fuori. Liazzar, iniziamo a spettarci sugli altri. Poi finirà con qualcuno che vi piomba in culo. Sicuro, sicuro. Non è qui. Aspetta di lì. Hai bisogno di un gobito. Hai portato il braccio adesso. Sì, sì. Non ha più un braccio. 10 secondi, Liazzar. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Ok. Vai, cazzo, via. Stiamo due contro due, mi sa. Pensiamo, dietro la casa, dietro... Eccolo lì, questo è noto. Dietro la casa. Io me lo indietro. All'altra, dietro all'altura della casa. Sei fuori dalla safe, tu, eh? Lo so. È lì, comunque. Dove? Destro o sinistro? No, è dietro sotto. Sì, ci trovo il cosetto là. Quindi potrebbe uscire da un'altra parte. In casa penso che non ci sia nessuno. No, ho dovuto fortemente. Se qualcuno... Sono a terra. Minchia. Ah, non c'è chino. No, no, combattino. Non c'è. È proprio lì. Sono socca. Eh, per forza. Secondi, porca puttana. Cazzo. Che cazzo, secondi. Quindi erano due contro due. Madò. E' una posizione migliore loro. Io avevo un po' da cecchino, usavi. Eh, ma comunque, mi sa che non... Perché volevo spostarmi verso la casa. No, ma te hanno 5-1 appena 8-dì, comunque. Mettiamo la 5-1, c'era uno dalla destra e uno dalla sinistra. Ma poi te lo sciolto, credito. Complimenti per la top 10. Grazie, Antonio. Grazie mille, Antonio. Ripeto, volevo spostarmi verso la casa e con il perotto non posso andare vicino. Però è ottimo comunque. È secondo il nostro record. Madonna, sì, è il nostro record. Anche perché è meglio di così. E tra l'altro è anche meglio di Carim e Gatto. Quindi fa un culo, Carim e Gatto. Dai, dai. E niente. Niente, grazie. Mi lasciamo al pranzo. Prima poi ce la faremo. È anche tardi. Esatto. Ci vediamo stasera. Stasera con... Stasera. Non lo so, grazie a tutti. Gentilissimo. Probabilmente o con Rainbow. Sì, o con Rainbow. Con uno, poi vediamo. Ciao. A stasera. Buon blando. Sera. Aspetta, Anna Sabo. Ecco. Midlass. Midlass. Giusto in tempo. Bellissimo. Mamma mia.